Fumagalli, lei è stato fermato in autostrada in stato di ebrezza a 2.5 Eh, che c***o, ho il limite a 130 Meno Questo è un reato penale Cioè che fa pena? Anche Mi impegnerò di più Se sa di dover guidare, non dovrebbe bere Casomai so che devo bere e non guido Ha una vaga idea di dove si trova Dove si trova che cosa? Dove si trova lei Prototipo Sì, mo butta la pasta che arrivo Va bene, ciao, ciao, ciao Non lo so, vuole anche un caffè? Con un goccino di latte se c'è Si chiama sarcasmo Ma in realtà si chiama caffè macchia